Uno scanner 3D passa sulla carrozzeria dell'auto, i dettagli del maggiolino prendono forma, prende via il Sustainability Journey, un viaggio nella sostenibilità in cui tecnologia 3D e industria 4.0 si incontrano con il coinvolgimento di grandi aziende del territorio. A promuovere l'iniziativa è stata Solid Engineering, società creata nel 1997 da Piero Todaro e Renzo Trisolini è divenuta l'unica realtà del sud specializzata nelle tecnologie 3D, che è partita con la prima tappa di questa iniziativa dal Volkswagen Zentrum di Bari. Questo è uno scanner 3D ottico laser, si chiama MetraScan, funziona tramite un proiettore di lame laser e delle telecamere che acquisiscono come queste lame proiettate su una superficie si deformano. Serve per scansionare gli oggetti, proietto le lame laser sulla superficie che devo scansionare, muovendomi molto semplicemente sulla superficie stessa riesco ad acquisire l'oggetto 3D. E non è un caso che il primo ambito produttivo toccato sia quello delle automobili, le applicazioni solo in questo specifico settore possono infatti rivelarsi molteplici. Spaziamo dal settore automotive, come in questo caso qui, al settore aerospaziale, nel settore oil and gas, ma più diciamo in genere laddove serva rilevare delle geometrie che è difficile andare a ridisegnare. Quindi possiamo pensare per esempio in questo settore, nel settore delle auto storiche, di avere la possibilità di rilevare dei particolari che non esistono più in commercio o che è difficile da andare a riprodurre e tramite la tecnologia della scansione appunto rilevare le forme, trasformarle in un modello 3D e questo modello 3D può essere poi successivamente stampato tramite l'utilizzo di stampanti 3D e riutilizzato al posto magari di quello che è danneggiato o dell'oggetto che mancava. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare gli amici di Volkswagen Zentrum Bari, quindi il nostro partner, da cui cominciamo questa avventura nel settore della ecosostenibilità.